Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono arancia, uova, zucchero semolato, burro morbido, farina di tipo doppio zero, lievito per dolci, vanillina e per la salsa all'arancia, zucchero, arance biologiche e scorze d'arancia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'arancia che abbiamo tagliato con tutta la boccia. La facciamo tritare per 10 secondi a velocità 9. Mettiamola da parte. Senza lavare il boccale inseriamo lo zucchero, le uova, e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 minuti a velocità 4. Aggiungiamo l'arancia, il burro morbido, la farina, la farina ed il lievito. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. trasferiamo adesso l'impasto in una teglia con apertura a cerniera del diametro di 22 cm che abbiamo rivestito sul fondo con carta da forno e in burrate laterali. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 35-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto e dopo rovesciamola su un piatto da portata. Prepareremo adesso la bagna all'arancia, mettiamo all'interno del boccale la scorza dell'arancia e lo zucchero e li facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il succo d'arancia, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, velocità 2. Versiamo la bagna sulla torta e decoriamo con delle fette di arancia. Torta all'arancia, grazie e alla prossima ricetta! Torta all'arancia, grazie e alla prossima!